Buongiorno a tutti, io sono Maria Grazia Solduvieri e sono un geologo specializzato in geofisica, esercito la libera professione da geologo e sono consulente per diverse società di ingegneria e di geologia. In questo lavoro vi mostro un lavoro che ho fatto per le risultanze preliminari che ho ottenuto per un lavoro eseguito per conto della geoconsult e si tratta di tomografie elettriche eseguite a ridosso della meridiana che è la zona che vi ha illustrato in precedenza il professore. Non vi soffermerò sulla metodica perché questa è ampiamente utilizzata nella pratica professionale ma vi racconterò le peculiarità che ho dovuto utilizzare per poter eseguire la tomografia sui marmi. Non potendo bucare marmi abbiamo utilizzato delle piastre e per migliorare il contatto tra la piastra e il marmo ho utilizzato delle salvertine imbevute e un gel che è quello che utilizziamo per attaccare gli elettrodi alla nostra pelle quando dobbiamo fare l'elettrocardiogramma. Come array di acquisizione è utilizzato il dispositivo di polo di polo assiale perché è quello che rispetto agli altri dispositivi consente una migliore ricostruzione delle variazioni laterali della resistività e in termini tridimensionali invece è quello che risente di meno del numero di acquisizioni da fare lungo una determinata direzione di acquisizione. Nella slide vedete ancora la sezione, la sequenza che ho ricostruito cercando di ottimizzare considerando un numero di elettrodi pari a 24 il maggior numero di quadri voli che si poteva ottenere considerando una distanza tra gli elettrodi di un metro. Quindi abbiamo realizzato quattro profili di tonografia dove il tomo 1 e il sono distanziati di due metri e sono stati eseguiti da un lato della meridiana e il tomo 3 e il tomo 4 dall'altro lato e hanno sempre una distanza di due metri. Il tomo 1 si trova a ridosso di un vuoto che è rappresentato dalla tomba del maresciallo Diaz. La strumentazione utilizzata è la 6000S e le cui specifiche tecniche sono illustrate nella slide. Per una prima elaborazione del dato ho utilizzato l'algoritmo di inversione RES2D-IMB che è ampiamente utilizzato in letteratura e che mi ha permesso di capire che si tratta della bontà del dato acquisito. Nel tomo 1 l'elettrostato più resistivo individua e dato dalla somma di un elettrostato francamente resistivo presente realmente a di sotto dei terreni ma anche dall'effetto della presenza di un vuoto rappresentato da questa tomba del maresciallo Diaz sui dati. Quindi diciamo a ridosso del tomo 1 i dati sono da prendere un po' con le pinze però sugli altri dei profili le acquisizioni sono fatte piuttosto bene e quindi ho potuto ricostruire una griglia tridimensionale considerando il tomo 4 come asse delle X e in questo modo ho riportato poi le nuove coordinate per ciascun ho rivalutato le nuove coordinate per ciascun elettrodo e ho utilizzato l'algoritmo di inversione RES3D-IMB per ottenere per elaborare i dati. Come si vede nei layer rappresentati layer 7, layer 8 e layer 9 l'adamento di resistività alle specifiche profondità consentono, evidenziano maggiormente questo elettrostato, la presenza di questo elettrostato più resistivo ma che dobbiamo appunto come dicevo prima dobbiamo considerare come anche l'offere una combinazione è una cosa combinata come effetto nella presenza del vuoto. Per rendere più semplice la visualizzazione del dato ho recuperato dai valori di indagliare dal calcolo che ha fatto il RES i valori di resistività reali e ho utilizzato un altro programma di grafica che è Voxler che mi permette di evidenziare meglio alcune cose che abbiamo come risultanze preliminari elaborato da questi da questi quattro dati. In particolare ci sono presenti come delineano queste frecce due aree particolarmente conduttive che ho ricostruito poi in unico andamento alla profondità di mezzo metro a partire dal piano corpestio e appunto si definiscono queste due aree particolarmente conduttive e la presenza di un vuoto reale che intercetta questi quattro profili che ha la profondità di due metri e mezzo che è rappresentato da questi valori di resistività medi di intorno ai 7000 cioè dalle isole resistive di colore rosso verde. Inoltre ho riportato poi tutte queste anomalie riscontrate su una carta recuperata dalla letteratura e queste in particolare le aree conduttive sono le zone in cui corrispondono sono a ridosso di quelle che sono due colonne. La parte invece più resistiva che è il vuoto in realtà si tratta di un canale di scolo già già noto.